Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Pano TV. Oggi è mercoledì 24 maggio 2023, iniziamo a dare un'occhiata ai giornali ma prima però guardiamo sempre l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi. Oggi è una giornata particolare perché non c'è un santo qualunque che propone il calendario liturgico ma è quella, ma è la festa di Santa Maria Ausiliatrice, ecco la vediamo qui nella grafica. E' una ricorrenza questa che si ricollega, pensate, alla vittoria di Lepanto, che è i cristiani dove, quando i cristiani hanno sconfitto i turchi, appunto presso le coste della Croazia, della Grecia, insomma Lepanto è un po' tra queste due nazioni, sconfessero i turchi nel 1571. Ebbene, in quel momento, quando era il culmine della battaglia, il Papa, che era a Roma, recitava il Rosario a sostegno appunto della vittoria dei cristiani ed ebbe quasi una visione, ebbe quasi un raccoglimento mistico, ebbene ebbe la certezza che la Madonna sosteneva i cristiani e quindi avrebbe avuto la vittoria. Da allora si festeggia la festa di Maria Ausiliatrice, Ausiliatrice nel senso che viene in aiuto a tutti coloro che si trovano in un momento di difficoltà. Tra l'altro il Papa era Sisto Quinto, Sisto Quinto felice di Perretto da Montalto, era nato a Grotta Mare, in provincia di Ascoli Piceno, e quindi era un marchigiano. Quindi Sisto Quinto, il Papa della vittoria di Lepanto. E ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Vediamo che qualcosa sta cambiando nel cielo delle Marche, e dopo il tempo bello della giornata di ieri qualcosa può cambiare. C'è una certa instabilità in aumento, specialmente nelle zone interne, con rovesci e temporali più diffusi. Le temperature sono stazionarie dai 17 ai 23 gradi. I venti sulle coste avranno una tensione debole da est, così come sull'interno. Il mare non è mosso, insomma, ancora il vento non spinge le onde alte. E quindi il mare abbiamo una bella distezza ancora azzurra, specialmente appunto il cielo che si riflette sul mare, sulla costa, e quindi il tempo è buono. Ed ora apriamo il giornale, oggi il Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano. E vediamo un articolo che riguarda la variante di Centinarola. La parola agli imprenditori che dovrebbero usufruire di questa variante, ovvero realizzare quel supermercato così in contemporanea all'ampliamento della scuola, che è stata promessa ai residenti di Centinarola. La variante comunque rimane sempre al centro di una contestazione di carattere politico all'interno della stessa maggioranza. Però la parola agli imprenditori. E vediamo cosa dice l'articolo. Adesso la variante non si può ritirare l'area pagata per la concorrenza. Supermercato a Centinarola. Il costruttore Iacone, Ciro Iacone, afferma che Minardi diede il benestare politico. Secondo appunto i privati che devono intervenire, la variante è perfetta. Ha un interesse pubblico elevatissimo e lo ha anche a livello dei privati. Altrimenti l'interesse privato, se non avesse avuto il sostegno dell'interesse pubblico, non si sarebbe mai realizzato. E poi Iacone cosa fa? Ripercorre tutti i gradi molto laboriosi, molto lunghi, che sono stati superati per giungere all'attuale stato dell'iter burocratico. Abbiamo messo a punto tutti gli aspetti della viabilità, ha detto, e poi anche quelli della scuola. Dopo moltissimi incontri con politici, dirigenti, la Giunta ha approvato la nostra richiesta l'11 febbraio 2021 e il 29 marzo successivo è iniziato l'iter formale. E poi c'è stata la conferenza di servizi, lunga, 14 mesi, con richieste da parte di alcuni rappresentanti degli enti pubblici coinvolti. Erano circa 50 dipendenti. Pensate che conferenza di servizi con ulteriori prescrizioni e poi ancora riesami. Insomma, una cosa molto molto lunga. La conferenza si è conclusa il 7 giugno del 2022 con una determinazione positiva. La variante, ora non credo, dice Iacone, che possa essere ritirata dal Consiglio Comunale per ragioni politiche, almeno che non si riscontrano riserve di carattere tecnico-giuridiche. E allora, sì, allora può essere ritirata, ma a questo punto la scelta politica è stata fatta. E questo è un punto di vista, appunto, importante, anche perché la parte privata è uno dei maggiori interlocutori della variante di Centinarola. Comunque la situazione rimane sempre in milico e dovrà decidere il Consiglio Comunale in una delle prossime riunioni. Ospedale Saltamartini Fumoso è una dichiarazione della consigliera regionale Marta Ruggeri, che ha presentato una interrogazione in Consiglio regionale sulla sorte dell'ospedale Santa Croce. Ebbene, l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, ha ancora tergiversato e ha rimandato tutto ad una definizione ulteriore. Quindi non si sa ancora che cosa accadrà a Santa Croce, quali specialità avrà, quali servizi. Si sa solo che gastroenterologia non verrà eliminata e questa è una promessa che Saltamartini si è sentito di fare e che appunto la Marta Ruggeri rileva. Comunque la situazione è ancora molto molto incerta e deve essere chiarita. Torna la città da giocare, statale liberata dalle auto. Torna domenica prossima dalle 15 alle 19 in Viale Grabsi. È una delle manifestazioni, la 29esima, pensate, che l'amministrazione comunale svolge nel quadro della città dei bambini. Ed è questa la manifestazione leader, diciamo quella più significativa, quella di chiudere il traffico alla statale adriatica per darla ai bambini. Ovviamente è un evento emblematico perché non è che si può fare tutti i giorni una cosa del genere, però è il simbolo dell'attenzione che l'amministrazione comunale dovrebbe dare. Qualcosa è stato fatto in questi ultimi 30 anni. Il laboratorio dei bambini ha superato ormai, la città dei bambini ha superato ormai i 30 anni. Era stata così realizzata come progetto nel 1991. Sono passati più di 30 anni, però ancora molto resta da fare. E per questo c'è l'impegno che ieri ha assicurato in conferenza stampa l'assessore Barbara Brunori, che con l'assessore alla cultura Cora Fattori ha così esposto il programma dell'iniziativa. Insieme poi ad altre operatrici. Insieme per esempio a Francesca Rumiti, della cooperativa Opera, che si occupa degli aspetti organizzativi. Paola Stolfa, del laboratorio Fano, città dei bambini e delle bambine. E Beatrice Farnetti, consiglio delle bambine e dei bambini. Insomma, sono queste le operatrici che collaborano alla organizzazione di questa manifestazione. Ebbene nel pomeriggio di domenica prossima ci saranno 53 associazioni tra sportive, ludiche e culturali che così faranno divertire i bambini. E quindi portateli in Viale Gramsci perché ci saranno tante tante occasioni di divertimento e di svago per i più piccoli. L'altra notizia che campeggia sui giornali questa mattina riguarda il sit-in che l'Udc ha organizzato ieri all'incrocio di via, diciamo, alla rotatoria di via Valeria Moriconi. Una delle opere compensative realizzate dall'autostrada. Questa rotatoria, dobbiamo dire, è molto molto pericolosa. È molto pericolosa perché l'ingresso dalla parte di Rosciano è occultato da delle barriere fonoassorbenti. E poi abbiamo una velocità delle auto che percorrono via Moriconi molto molto elevata. E purtroppo si sono verificati anche non pochi incidenti. Quindi ultimamente, l'8 maggio scorso, una donna è stata investita mentre era in bicicletta ed è stata ricoverata in eleambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Ma nel gennaio precedente ancora un'altra donna è stata investita e ha avuto la rottura dell'anca e del femore. Insomma, poi ancora un'altra bambina. Insomma, sono diversi gli incidenti che ci sono verificati in questo punto. E ancora il sistema di sicurezza deve essere sistemato. Diciamo che c'è un limite di velocità dei 30 km orari, che però nessuno rispetta. Mancano completamente i percorsi ciclabili e pedonali. Quindi non c'è sicurezza né per i pedoni né per i ciclisti. È in atto anche una richiesta, così come ha sottolineato Stefano Polegioni, che ha organizzato il sit-in per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale. È in atto una richiesta da parte del comandante della Polizia Locale alla Prefettura di Pesaro Urbino per la sistemazione di un autovelox. Se in quel punto, per indurre appunto gli automobilisti a mantenere il limite di velocità prescritto. Comunque è una situazione che deve essere ancora sistemata. Vediamo sulla pagina della Val Metauro. Fossombrone, l'hospice raddoppia i posti. Lavori finiti entro l'anno. L'annuncio è stato dato dal responsabile, il dottor Carlo Alberto Brunori. Saranno presi in carico anche i malati di SLA. Ebbene, la capienza dell'hospice di Fossombrone aumenterà da 10 a 19 posti letto. E dobbiamo anche rimarcare l'impegno di Carlo Alberto Brunori. Questo dottore che accompagna spesso, ma non solo, i malati nelle ultime fasi di vita, quelli malati di tumore. Ma all'hospice di Fossombrone non vanno solo questi ultimi, vanno anche altre persone che ovviamente poi guariscono tranquillamente. Quindi la situazione non è così oscura, così brutta come potrebbe pensare. L'annuncio viene proprio nella settimana in cui cade la giornata nazionale del sollievo, in programma il 28 maggio, e riaccende i riflettori sull'importanza del comparto Il Giardino del Duca, luogo di servizio di tutta la provincia di Pesaro Urbino. Quindi abbiamo un servizio che finalmente viene implementato. Bandito, per la prima volta nelle Marche, un concorso per assumere medici di cure pagliative. Cedimento della briglia. Oggi un sopralluogo. Il cedimento dell'argine, che era stato realizzato nel mezzo del Metauro, all'altezza di Cerbara, che ha causato anche effetti per quanto riguarda il livello dell'acqua nel canale Albani, dove è stata chiusa la centrale della Liscia. Da verificare l'entità del danno lungo il Metauro e i tempi del ripristino. Anche qui l'ondata di piena ha causato dei danni. Ed ora andiamo a Marotta, dove a Marotta è stata una giornata storica, quella dell'eliminazione dei semafori all'incrocio tra la cesanense e la statale adriatica, la pergolese, diciamo meglio, via ai semafori dall'incrocio. Un cambiamento storico, perché è stata così aperta, anche se ancora i lavori devono continuare, la rotatoria che è stata realizzata. Il sindaco Barbieri, soddisfatto dall'avanzamento dei lavori, che saranno terminati prima dell'inizio della stagione estiva, e quindi anche questo punto nevralgico della viabilità della nostra costa, avrà una sistemazione più idonea, migliore, senza momenti di attesa per i semafori. E poi andiamo a Senigallia, dove si parla del restauro delle mura storiche. Senigallia è una città antica, è una città che conserva di beni archeologici molto importanti. Sotto il teatro della Finicia abbiamo un comparto di quello che era la città romana, ma anche tutta la città medievale circondata, a parte la rocca che è bellissima, tutta circondata da mura storiche. Ebbene, ora scatta il restauro, anche se sono intercorsi due mesi a causa delle condizioni atmosferiche. L'opera, da 106 mila euro, è stata finanziata con il PNRR, poi toccherà a Porta Mazzini e al parco di Viale Leopardi. È partito con due mesi di ritardo a causa del maltempo il cantiere per il restauro di un tratto di mura storiche che circonda il centro urbano. E poi abbiamo anche gli altri interventi. Sono quelli in calendario. Prossimi a partire riguardano il restauro di Porta Mazzini del parcheggio di Viale Leopardi, l'illuminazione del vallato della Rocca Roveresca, l'adeguamento sismico e l'efficientamento della scuola primaria e del centro sportivo polivalente della Cesanella, e infine il recupero degli edifici comunali di Viale Buonopera. Questi sono gli interventi in atto. E poi vediamo anche una truffa per coloro che hanno ancora il riscaldamento con il camino, oppure con la stufa, a legna. Ebbene, compra 50 quintali di legna, ma ne arriva la metà. Padre e figlio truffatori costretti a risarcire. La donna ha chiamato i carabinieri. I due malfattori scoperti in diretta pagano ed evitano la denuncia. Ebbene, si tratta di una signora che aveva acquistato 50 quintali che le sarebbero stati portati direttamente a casa da una ditta di Cerignola. Ebbene, hanno scaricato la metà, 25 quintali. Lì per lì la donna non si è accorta di quello, ma con il passare del tempo ha accorto che l'entità della legna che aveva acquistato era inferiore al suo peso specifico e quindi si è rivolta ai carabinieri. I carabinieri hanno addocchiato i due imprenditori che avevano portato la legna e li hanno scoperti a fare lo stesso raggiro da un'altra parte e quindi li hanno sorpresi con le mani nel sacco. La donna a questo punto ha richiesto indietro i suoi soldi, li ha riavuti e ha ovviato nel fare la denuncia. Però insomma i due sono stati così inquisiti e poi nei loro confronti è stato elevato un divieto di ripresentarsi nel nostro territorio. Vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro dove l'apertura è dedicata ai danni causati dal maltempo. Sono danni da capogiro, ha detto il sindaco Matteo Ricci, per centinaia di milioni. Abbiamo veramente bisogno di aiuto da parte del Governo. Ebbene oggi sono attesi i tecnici della protezione civile a carattere nazionale per un sopralluogo utile in vista del Consiglio dei Ministri che è stato convocato domani. Un Consiglio dove all'ordine del giorno c'è la situazione delle Marche e della Toscana dopo quello che è stato dedicato a tutta l'Emilia Romagna. Anche le Marche dunque hanno subito ingenti danni. Per l'inizio della prossima settimana l'assessore regionale Stefano Aguzzi attende il report dei conteggi dei territori dove i danni riportati dai privati a case e imprese si sommano a quelli subiti dagli enti pubblici. È una cifra a leggia su tutte. 10 milioni è quello che il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini ha calcolato soltanto per sistemare le strade, le frane e tutto quello che riguarda il dissesto del territorio. E poi abbiamo anche altri articoli che riguardano il maltempo. Le case sono un disastro, i mobili da buttare. In cento per aiutare la Romagna distrutta, domenica si torna, sono i volontari, quelli che sono chiamati gli angeli del fango. Venduto lo storico Hotel de Ben è a meno della metà del suo valore. Era stato calcolato inizialmente per 3 milioni di euro e stato venduto per 1 milione e 300 mila euro. Lo storico albergo affacciato sul piazzale dove c'è la sfera di pomodoro con le sue grandi sfingi, l'elegante aspetto stile Liberty è stato aggiudicato all'asta. Dunque, vediamo un attimo. È stato aggiudicato all'asta ad acquisirlo con un'offerta minima di 1 milione e 315 mila e 500 euro. È stata una società pesarese. Ed ora ci sarà una nuova vita per questo fabbricato che ha segnato un po' gli anni belli, gli anni storici. Beh, ogni età ha i suoi brutti e belli anni di così, di immagine. E l'Hotel de Ben è stato un simbolo. Gli ha un po' attraversati tutti perché ha avuto un'immagine splendida e poi anche il degrado quando è stato semiabbandonato e quindi è stato un po' un simbolo dell'immagine di Pesaro. Bonifica ex AMGA. La sfida è la fase 2. Il Comune dovrà decidere il futuro. Primo sopralluogo della Commissione nell'area inquinata. I cinque anni stimati potrebbero accorciarsi. Già ne sono stati passati parecchi di anni per quanto riguarda la bonifica di questa superficie. Ora si parla di cinque anni e si cerca ovviamente di abbreviarli perché veramente la situazione sta diventando insostenibile. Mentre a Assoria la scuola Scarabocchio si sposta al mare per realizzare i lavori. Il polo dell'infanzia di Via Rigoni dovrà essere demolito e ricostruito in due anni. Tiriamo ancora la pagina. Abbiamo quella di Urbino sul Corriere Adriatico. Si parla di biologico, natura e arte. Raccontiamo il territorio. Ebbene si chiama Tales of Urbino, navigatore di storie. Un progetto che vuole raccontare il territorio di 27 comuni delle Marche attraverso dei podcast sulla piattaforma Loquis. È stato presentato al Golf Club Alpe della Luna di Borgo Pace davanti ad un ampio pubblico e c'erano diversi amministratori. Primo tra tutti Romina Pierantoni, sindaca appunto di Borgo Pace. Ed ora apriamo il resto del Carlino. L'apertura è dedicata al sit-in, organizzato dall'Udc sulla rotatoria di Via Moriconi. Vanno come matti e neanche li vedi. Qui prima o poi ci scappa il morto. Sono delle frasi che sono state strappolate dalle proteste lanciate dai residenti, che sono veramente stanche di sfidare il destino ogni giorno, quando devono andare a Fano, quando devono tornare a casa. Sit-in di protesta alla rotatoria di Via Moriconi a Rosciano, appello dei residenti all'amministrazione comunale, intervenite, intervenite al più presto per ripristinare le condizioni di sicurezza. Ebbene, quel punto nevralgico del traffico è stato realizzato in maniera incongura, non c'è la sicurezza per la mobilità dolce, occorre tutelare soprattutto i pedoni e i ciclisti, e di questo abbiamo già parlato. A fondo pagina abbiamo invece una novità che il resto del Carlino evidenzia. Appare in occasione delle prossime elezioni amministrative del 2024 una nuova lista. In questa grafica vediamo un attimo il simbolo di questa lista. Si chiama ribella. Fano riparte dal valore e dai diritti delle persone, ridisegna una città più verde e sostenibile, ricrea un lavoro più sicuro e dignitoso. Spunta una lista progressista e occhieggia a Marta Ruggeri. Si chiama ribella e punta a tenere insieme la sinistra per contrastare l'avanzamento delle forze del centro-destra e in modo particolare punta sui temi dei diritti e del lavoro. Questa dunque una nuova sigla. Vediamo chi riunisce. Tra i promotori ci sarebbero il circolo Gramsci, Bene Comune, il coordinamento 20-50 nato a livello nazionale per dialogare con il Movimento 5 Stelle e lo stesso Movimento 5 Stelle che fa parte della squadra. L'iniziativa avrebbe già raccolto la simpatia di alcuni consiglieri comunali e anche del Partito Democratico. L'obiettivo di ribella è quello di impedire lo scivolamento a destra della città e rilanciare il dibattito politico partendo dai contenuti e non dai candidati sindaci. questo è un po' lo dicono tutti all'inizio poi magari è stato che si guarda molto anche alla persona che dovrà reggere il Comune per i prossimi cinque anni vale anche poi la candidatura stessa. Ed ora parliamo della città da giocare ne abbiamo già parlato ma anche il Carlino evidenzia un grande da largo spazio voglio dire a questa iniziativa che si svolge domenica prossima, lo ripetiamo, nel pomeriggio in Viale Gramsci un'avventura in 53 tappe 53 tappe sarebbero le 53 associazioni che partecipano a questa iniziativa quindi i bambini hanno tutta la possibilità di svagarsi in mille modi. Invece abbiamo una bella iniziativa dopo quella che ha pubblicato ieri il Corriere Adriatico per quanto riguarda la presenza dei carabinieri nelle scuole oggi abbiamo il Carlino che evidenzia una iniziativa particolare quella che ha unito i bambini della scuola Montessori con la caselma dei carabinieri di Fano hanno visitato la caselma e hanno toccato con mano veramente come operano i carabinieri hanno preso visione degli equipaggiamenti dei mezzi e poi dei materiali utilizzati dai militari hanno assistito ad una dimostrazione pratica hanno sperimentato come si rilevano pensate le impronte digitali e poi ancora come funziona una ricetrasmittente come si indaga su una scena del crimine insomma hanno così ha avuto un contatto più diretto con le forze dell'ordine guardandole da un lato molto molto più così stretto molto più non dico affettuoso ma insomma molto più sensibile rispetto a quello delle autorità dell'autorità che evidenzia un certo distacco. Per quanto riguarda invece le infiltrazioni della scuola gentile c'è un'assicurazione della Brunori che dice ci stiamo già operando e la ditta sta cercando di individuare le cause delle infiltrazioni d'acqua. Siamo in conclusione voglio solo segnalarvi questo articolo che riguarda l'Interquartieri c'è una lettera del dirigente Pietro Celani che dice attenzione c'è un'estrema incertezza l'opera potrebbe essere definanziata e i bilanci sarebbero ingessati per anni se il mutuo non si riuscisse a pagare. E questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto a risentirci.